Chiedere conto dello staro dell'impianto, trasferire presso l'impianti personale che ha la responsabilità di tutta la struttura e la richiesta che arriva dai consiglieri comunali di minoranza, Caterina Di Rienzo, Franco Di Rocco, Antonietta Laporta, Vittorio Masci, Teresa Nannarone, Maurizio Proietti, Luigi Santilli e Salvatore Zavarella, Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, sulla discarica di Noce Mattei del Coggesa che continua a creare problemi ai residenti della frazione Marane. Secondo l'opposizione nulla è cambiato, restano i disagi e i miasmi senza alcuna possibilità di poter eseguire un'indagine epidemiologica sull'aria. Nei giorni scorsi il sindaco aveva interessato l'Istituto Superiore della Sanità per affrontare la problematica, incassando la disponibilità ad aprire un tavolo. Ma per la minoranza non basta, due anni e mezzo, metà mandato dell'amministrazione del cambiamento che compromesse a più voci proponeva di risolvere l'annosso problema delle emissioni nei pressi di Noce Mattei, che invece non ha risolto nulla. In calzano i consiglieri di opposizione, che chiedono al sindaco di chiedere conto all'ingegner Bancani dello Stato dell'impianto, di far trasferire presso l'impianto il personale che è la responsabilità e tutta la struttura. Chi ha la responsabilità dell'impianto forse parla a ruota libera perché non è neppure presente sull'impianto stesso. Il sindaco che pensa di fare per tutelare i suoi cittadini se lo chiedono dall'opposizione?